Il GUP del Tribunale di Bari, Giovanni Anglana, ha rinviato a giudizio due specialisti in medicina dello sport, accusati di truffa e falso. Stando alle indagini dei carabinieri del NAS, coordinate dal PM Gaetano De Bari, i due medici Graziello Schiraldi e Sergio De Lucia, dipendenti della società Meleam di Bitonto, avrebbero rilasciato certificati di visite mediche per attività agonistiche, in realtà mai direttamente effettuate in favore di atleti appartenenti a società sportive e associazioni dilettantistiche, in cambio di compensi pari a complessivi 8.000 euro circa da agosto a novembre 2012. La truffa consisterebbe quindi nell'aver ricevuto da nove società sportive, tutte della provincia di Foggia, un compenso di 35 euro per ogni atleta, fornendo certificati di idoneità all'attività agonistica privi di valenza giuridica, non possedendo, si legge nel capo di imputazione, l'autorizzazione necessaria all'espletamento delle diagnosi nelle attività sportive di tipo agonistico nella regione Puglia. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia dell'allora presidente del CONI di Foggia, in particolare la società Meleam, che non risulta convenzionata con la FMSI CONI, come prevede la normativa regionale vigente, avrebbe contattato le società sportive, offrendo visite mediche a domicilio, effettuate da medici diversi da quelli che poi firmavano, senza averne l'autorizzazione, i relativi certificati di idoneità all'attività agonistica. Il processo inizierà il prossimo 13 luglio, dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Bari. Finne 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 Grazie.